Anche la tv francese si è occupata di un artigiano alcamese, cioccolataio, bean to bar. Spieghiamo innanzitutto la differenza tra cioccolataio e cioccolatiere e cos'è questa frase in inglese. La denominazione bean to bar nasce dal fatto che c'è più cultura di questa tipologia di trasformazione del cacao all'estero. Bean sta per fagiolo, seme e bar sta per barretta. Significa che noi curiamo tutti i bean to bar, tutta la filiera, dal seme fino ad arrivare alla barretta. Quindi non compriamo dei semi lavorati, non prendiamo un prodotto finito e lo stampiamo, ma curiamo tutto questo processo che consiste nel selezionare il seme, tostare il seme, separare il seme dalla buccia, metterlo in frantoio. Perché cioccolataio e non cioccolatiere? Il cioccolataio è quello che fa questo lavoro, cioè produce il cioccolato, fa nascere il cioccolato dal seme, cioè dal seme si trasforma in cioccolato. Voi siete una famiglia di torrefattori, avete sempre lavorato il caffè, come nasce questa idea di dedicarti al cioccolato? Io ho saputo nella vita fare sempre tante cose, già da dieci anni a questa parte mi sono sempre interessato al cioccolato perché mi piaceva mangiare il cioccolato. E all'epoca in torrefazione io vendevo aziende italiane molto particolari di cioccolato. Da lì nasce la curiosità, ogni tanto trovare il seme di cacao in mezzo al caffè, perché dove viene essiccato il seme del cacao viene essiccato anche il caffè. Da lì nasce questo interesse, poi un viaggio in Centro America fa esplodere questa passione, da lì nasce la questione di importare il seme dal Centro America. Da quattro anni che si comincia gradualmente e nasce questa azienda che è il sito Lo Stelino Chocolate Maker, il brand, dove ci occupiamo io e mia moglie di produzione di cioccolato. Cioccolato di nicchia o il tuo viene richiesto anche da tanta gente, da gente comune piuttosto che da grandi amanti o grandi specialisti? Abbiamo infatti due linee, la prima linea di partenza si chiama il siciliano, è una linea diciamo già più economica, ma comunque rimane sempre una fascia alta. Poi abbiamo una linea ancora più curata, dove si va a curare la provenienza del seme da vere piccole aziende agricole in Centro America. Per il Costa Rica abbiamo una tribù indigena, per il Guatemala dei discendenti maya, che si chiama l'associazione Fede Covera. Quelle sono linee ancora più alte, ancora più di nicchia. Il cioccolato che viene usato anche nella cucina, anche se l'idea generale è quella del dolce, mentre il salato serve anche ai grandi chef. Certamente, anche io faccio per esempio un tartufo, però non lo faccio rotondo, lo faccio quadrato, lo faccio al caramello salato. Ho in preparazione una ricetta, che è composta da un'alice sott'olio, che ha avuto prima il passaggio in sale e poi sott'olio, dove viene tolto l'olio, poi viene caramellata e poi ricoperta di cioccolato. È una cosa un po' strana per i nostri gusti, pensiamo che ci sono miei colleghi che fanno i tartufi al cioccolato con il gorgonzola.